Salve a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale Tetocomic 69. Vi leggerò una storia tratta da Topolino, per la precisione dal Topolino numero 725 del 19 ottobre 1969. La storia si intitola Paperino e i flabelli del maestoso, storia scritta da Guido Martina e disegnata da Giulio Chierchini. Che poi Giulio Chierchini sarà anche quello che successivamente, faccio questo inciso, creerà le cosiddette tavole dipinte e creerà anche il personaggio che ho recensito nel mio canale di Little Gamma. Allora, Paperino e i flabelli del maestoso. Dove ci porti, zio Paperoni? In nessun luogo. Voglio soltanto collaudare il mio nuovo superjet a grande autonomia. Che ne dici, dipote? In un'ora abbiamo percorso più di due miglia. Fantastico! Juhu! Proprio Gagliardo questo super! Gagliardo è comodo, poltrone in gomma piuma, schienali ribaltabili. Ti ci trovi bene? Eh eh, come un topo nel formaggio. Ah, che pacchia! Uh oh! Inavvertitamente i piedi di Paperino premono un pulsante, facendo scaraventare gli espulsori di emergenza. Eh? 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 Oh, cacchino! Addio super! Nipote, grrrr! Appena terra faremo i conti! Eh? Uff! Um, chissà dove siamo. Grrrr! Ve lo dico io. Questo è il luogo dove uno zio farà giustizia a son mai di un nipote. Ah! Ah! Ssh! Siamo alle solite. Fermo! Devo disintegrarti! Uh! Uh! Devo nascondermi! Uh! Quei mos... Brrrr! Nipote, ti sembra questo il modo di frenare senza segnalare? Guarda! Cespugli, se muoventi, si avvicinano. Eh? Meglio allontanarci. Gambe, zio! Gambe, nipote! Non ve ne andate qui, siete benvenuti. Eh? Uh! Mmh! Un cespuglio generale! Ssh! C'è un cespuglio nel generale. Chiamatemi modestamente caporale. Caporal Napoleo, Napoleo, in servizio di guarda alla frontiera. Tanto piacere, noi siamo paperi, in volo di collaudo. A proposito, faccio un nodo al fazzoletto per ricordare il nostro contesto speso. Mmh! Paperi, eh? Piovuti dal cielo, vi ho visti cadere. Spero che non ci arresterete per immigrazione clandestina. Arrestarvi? Al contrario, solo un centezza sarà ben felice nel vostro arrivo. Mmh! Chi sarà felice? Sua lucentezza è il gran vigolfo di Bambagufi. Oh, oh! Un personaggio importante, immagino. Importante? È addirittura un maestoso. Ora vi accompagno da lui. Vi riceverà con tutti gli onori. Magnifico! Tutto merito mio, se siamo piovuti in questo simpatico luogo. Sì, nipote, riconosco i tuoi meriti. Venite, il palazzo imperiale è piuttosto lontano, ma ho qui la mia jeep. Ottimamente. Ecco la jeep. Eh? Senza motore? Purtroppo il motore beve benzina e noi non ne possediamo. Eh che conosco qualcuno che potrà fornirvene tonnellate a prezzo di favore. Inutile. Al di là del confine ci sono in mezzo a giacimento di petrolio, che presto sarà nostro. Un affare spumato. Comunque, sarà molto interessante fare un sopralluogo al di là del confine. Se siete pronti, possiamo partire. Prontissimi. Fratelli, che bellezza. Un viaggio in elefanto jeep. In marcia. Ne avete molte di queste jeep? Moltissime. E inoltre i carri armati autoblindati, autobus. Tutti addosso di elefante. Sì, ma sarà ancora per poco. Quando avremo petrolio faremo meno di questi bestioni. Beh, dopo tutto si viaggia bene anche così. Siete comodo? Comodissimo. Eh eh, proprio come un topo nel... Ehi! Puff! Ah, un topo! Che cosa è successo? Non sapete che gli elefanti hanno terrore dei topi? Basta quella sola parola paralizzarli. Nipote, faccio un altro nodo al fazzoletto. Grrrr! Beh, si riparte. Dovremmo proseguire a piedi. Quando queste bestiacce fanno il sit-in, impossibile smuovere per ore e ore. Grrrr! Piuttosto scovolano un esercito motorizzato a quel modo. Appunto per questo il maestoso prepara un'offensiva contro il lamentoso. Il lamentoso? Sì, sua miseria è il gran bollettario. Cugino gemello del maestoso. Un poveraccio, immagino. Povero? Eh eh. Non possiede nemmeno un succhiello per fare un buchi nel terreno. Mmm, che strano hobby fare buchi nel terreno. Ecco il palazzo imperiale. Aspettatemi qui. Vado ad annunziarvi la sua lucentezza. Mmm, chissà perché sua lucentezza sembra così felice del nostro arrivo. Chiaro, ha bisogno di petrolio per l'esercito. E sarà il sottoscritto a venderglielo. Ma non hai sentito? Lui pensa di prendere il petrolio che c'è al di là del confine. Eh eh. Ciò che lui pensa non ha importanza. Importante è ciò che penso io. Venite. Mmm. Sento profumo di lucrossi affari. Tutto merito mio. Lucentezza. Ecco i paperi pieguti dal cielo. Proprio noi, in penne e piume. Piume, eh? Vedo, vedo. Avevo deciso di mandare una spedizione a Paperopoli. Ma già che siete qui è tanto tempo risparmiato. Eh eh, il tempo è moneta. E tanto per parlare di moneta ti occorre il mio petrolio? Che sciocchezza. Il petrolio lo prenderò qui oltre il confine. Ma allora, perché volevi mandare una spedizione a Paperopoli? Mi risulta che laggiù vivono paperi eccezionali, pennuti di alta genealogia. Eh eh, modesti a parte quelli siamo noi. Al nostro paragone tutti gli alti pennuti, struzzi, uccelli, lira e pavoni sono cornacchie. Proprio quello che mi risulta. Perciò voglio che una vostra rappresentanza sia accanto a me sul trono allorché sarà imperatore. Quali onore per noi? Già, niente petrolio dunque. Papero, tu incominci a scocciarmi. Puff, la mia è una semplice domanda. E la mia risposta è no. D'accordo, d'accordo. Sia come tu vuoi. Già te l'ho detto. Voglio che una vostra rappresentanza sia accanto a me quando sederò sul trono dopo aver sconfitto il lamentoso. E a chi di noi tocca fare tale onore? Lo vedremo subito. Chiamate l'imperial cerussico mano d'oro. Cosa vuol dire cerussico? Se non sbaglio è un'antica parola che significa chirurgo. Sarebbe a dire quello che taglia? Proprio quello. Mi ha chiamato lucentezza? Sì, mani d'oro. Non è più necessario mandare una spedizione di caccia a Paperopoli. Spedizione di caccia? Piano con gli scherzi. Niente ribellioni se non volete finire allo spiedo. Merito tuo se siamo finiti qui. Faccio un altro nodo. Mano d'oro. Che mi dici di questi paperi? Semmono la prima scelta. Ma devo controllare. Vediamo. Hai schianzato tagliatrippe. Largo, fatemi uscire. Voglio tornare a casa. Alta, nell'angolo. Tutti nell'angolo. Peggio che a scuola. Piumaggio di qualità extra. Meglio che quello di struzzo di uccello lira? Mille volte. Meglio di qualsiasi altro pennuto. Bene. Le mie informazioni erano esatte. Hai detto bene tu. Gli struzzi e gli uccelli lira? Pfff. Cornacchia al vostro paragone. Perciò ho deciso. Le vostre piume onoreranno i miei flabelli. I tuoi cosa? I ventagli che mi faranno aria sul trono durante la mia incoronazione. Sarebbe quella la nostra rappresentanza? Eh? Sì. Soltanto quella. Il resto non mi interessa. Una volta che Manodoro vi avrà spiumati, sarete liberi di andarveni. Eh? Spiumati? Un'orrenda visione. Terrificante prospettiva. Non penserete che io, l'imperatore, mi faccia adia con piume di cornacchia. Cornacchia, eh? Nipote, io faccio un altro nodo. Manodoro. Date mano all'operazione. Questi papiari sono magrolini. Prima dello spiumaggio bisognerà ingrassarli. Magari con qualche iniezione di vitamine. No, io propendo per una superalimentazione naturale. E allora superalimentate la svelta. Ha! Io non voglio mangiare. Farò lo sciopero della fame. Lo sciopero della fame? Mica facile. Poco dopo. Buon appetito, ospite. E mangiate senza economia. Poi, per il momento basta così. Fra sei ore, nuovo banchetto. Che ti dicevo, papero? Mica facile. E lo sciopero della fame? Finalmente soli. Allegria. No. Siamo intassati di cibo fino agli occhi. E osi parlare di allegria? Voglio dire che i miei nodi sono lenti. E poco per volta sono riuscito a desligarmi. Poco dopo. Tutte lì mi riauro, portiamo a evadere. Da che parte? La porta è a prova di bomba. Fuggiremo dalla finestra, fratellastri. Fuggiremo dalla finestra, fratelli. Annodate le corde. Dalla finestra? Come arriveremo fin lassù? Facendo la piramide. Tu, zio Paperoni, che sei il sostegno della famiglia, farei la base. Sempre la solita storia. Tutti i pesci sulle mie spalle. Forza, zio Paperoni, tocca a te. Che fatica evadere. Infine. Io salgo in avanscoperta e cerco un appiglio per legare la corda. Evviva! Ho visto un merlo. Sai, questo è il momento di guardare i merli. Ecco l'appiglio che fa per noi. La corda è legata. Potete salire. Fuori uno. Il secondo è in arrivo. Aiuto, sono bloccato. Qua la mano, zio Paperino. Tira, fratello. Oh, issa. Perdi tempo di un nipote. Ti decidi di uscire. Fuori. Sei il solito ingordo. Mangi troppo e ti confi come un pallone. Litigherete dopo. Adesso dobbiamo pensare alla fuga. Presto. Nessuno in vista. Meno male. Andiamoci alla svelta. Da che parte? Per di qua. Verso la campagna. Fino a ora via libera. Speriamo che duri. Chiudi il becco. Minagramo. Molto dopo. Che stanchezza. Mi riposerò un momento all'ombra di quel cespuglio. Alto là. Allarmi. I prigionieri fuggono. Via di corsa. Catastrofico nipote. Siamo sempre nei guai per colpa tua. Come avrei potuto immaginare. Non immaginare. Corri. Poi faremo i conti tutti una volta. Uff. Uff. Ragazzi. Sentite anche voi questi tonfi? Sì purtroppo. Corsa di elefanti. Forza forza. Vedo un ponte davanti a noi. Fermi in nome dell'imperatore. Imperatore. Uff. Ci riuscissimo a raggiungere il ponte. Impossibile. Abbiamo gli elefanti alle spalle. Eh. Ora che ci penso. Gli elefanti hanno paura dei topi. È vero. Basta la sola parola a paralizzarli. Fiata ai polmoni. Fuori la voce. Topi. 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 Ratti. Sorci. Presto al ponte. Salvi per il momento. Ho detto salvi. Dalla padella nella braccia. Peggio. Siamo presi tra le fuochi. Fermi voi. E voi. Venite avanti. I nemici del maestroso sono i nostri amici. Grazie caporale. Se non vi spiace chiamatemi generale. General Mingragna. In servizio di sorveglianza alla linea di confine. Prevediamo un'invasione del nemico e i miei guastatori stavano per far saltare il ponte. Sono troppo curioso se vi domando dove siamo esattamente. Siete nel territorio di sua miseria il gran bollettario lamentoso. Cioè il cugino gemello del maestoso. Cugino gemello e nemico fraterno. Eche. Anche noi siamo nemici del maestoso. Siete paperi eh. Il lamentoso sarà ben felice del vostro arrivo. Uh oh. Voleva inviare una spedizione a Paperopoli per cercarvi. Ma è così povero il poveretto. Ci risiamo. Anche lui vuole spiumarci. Venite. Vi accompagno nel lamentoso che sul travedendo. E che tra poco sarà fresco se spera. Sai cosa ti dico zio? Dobbiamo negare di essere paperi. Saggio consiglio nipote. Poco dopo. Entrate. Il lamentoso vi aspetta. Non vi dico la mia gioia. Chi avrebbe sperato di vedervi nel mio territorio paperi? Paperi? Come ci hai chiamato? Non siete forse paperi provenienti da Paperopoli? Che idea. Forse abbiamo una lontana somiglianza con quei pennuti. Ma l'apparenza inganna. Eppure. Mi risulta che a Paperopoli vive un tal paperone dei paperoni. Leggenda, signor mio. Pura leggenda. Un personaggio inventato dalle donne per spaventare i bambini discoli. Una specie di orco spennacchiato. Brutto come la fame. Eh, nipote, vada che faccio un altro nodo. A me avevano detto che Paperone è un genio. Un genio. Lui? Non fatemi ridere. Le tue parole hanno distrutto le mie ultime speranze. Mi dispiace per te, sinceramente. Poveraccio, ci fa pena. Mi rassegna il mio destino. Dove sarà andato? Boh. Grazie al mio sagace consiglio i nostri piumaggi sono salvi. Siamo sicuri che lui volesse il nostro piumaggio? E che altro avrebbe potuto volere? Non lo so. Ma mi piacerebbe tanto saperlo. I tuoi guastatori labbano la guardia del ponte. Il pericolo di guerra è scongiurato. Ora ci sarà l'invasione pacifica. Spiegati meglio, amico. Il lamentoso è povero e non possiede nemmeno un succhiello per forare il suolo. Forare il suolo? Strano hobby. Non si tratta di hobby, ma di petrolio. Qui sotto ce n'è un giacimento sterminato. E lamentoso. Povero illuso. Ebbene? Ebbene, lui si illudeva che esistesse veramente un talpa per onde ponte. Popperoni gli avevano detto che era un genio negli affari. Così intendeva cedergli l'intero giacimento in cambio di cosa? Forse nel suo piumaggio. No, voleva un appannaggio di mille dollari l'anno. Mille dollari per l'intero giacimento? Dov'è? Dov'è il lamentoso? Devo dirgli che Popperoni esiste troppo tardi. Poco fa acceduce il giacimento al maestoso e così la guerra è scongiurata. Ora incomincia la nostra guerra. Inutile scappare, catastrofico consigliere. Presto o tardi ti agguanterò. Avanti. Anzi, più presto che tardi. Che cosa fai, Zio Popperoni? Un nodo. Ecco quello che faccio. Boom, tu, pum, pum, spark. Così ti ricorderai che non mi devi mai più dare consigli. Fine. Grazie a tutti e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.